la ha collezionato in attorno 47 presenze e 16 letti, con 344 presenze e 157 gol in segno a un'altra felicitazione della classifica campanile di segno a con le materie della florentina e della scuola. E' l'ultimo, con il quale ha deciso in attorno con una strettosa famiglia di attenzibilità. Signor e signori, che è la nostra felicità, è la primavera della famiglia. Vediamo adesso, signor e signori, e la primavera della primavera della primavera è la primavera della famiglia di segno a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. E la successora l'autorica, un'altra forza, con segno a Luca, una barca celebrativa, che ho una taglia, il segno di ringraziamento, perché il contributo è lato alla nazionale. Una coppia di questa maglia autograppata da Luca Solani sarà tornata e quindi risposta all'intervento e se li rivolgiamo. Saludiamo con un grande acroso, i dettori, Luca! 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 Grazie a tutti.